come sant'antonio rubò il fuoco al diavolo quando il mondo era ancora molto giovane e le stelle avevano appena imparato a muovere i primi passi per le ampie strade del cielo la sardegna non era così come oggi la conoscete niente affatto era più che altro e soprattutto in inverno una terra triste e fredda così fredda che eroni cicogne finicotteri ci pensavano due volte prima di venirci a svernare e così triste per via di tutto quel tremare e quel battere di denti dei suoi pochi abitanti che anche i viaggiatori più temerari se ne tenevano alla larga se solo avevano un po di sale nella zucca un giorno però era gennaio e che freddo faceva mio dio uno strano viaggiatore sbarcò sulla grande spiaggia a nord ovest dell'isola e si incamminò verso l'interno era davvero uno strano stranissimo personaggio a vederlo passare così alto e allampanato gli abitanti dell'isola fra un tremorio e un battito di denti li si fecero intorno incuriositi chi sei tu brrr gli chiese una vecchietta imbaccucata in pesanti panni di orbace e come mai e ci va in giro brrr con una simile compagnia lo sono viaggiatore infatti non era solo perché sette cinghialetti rosa pasciutelli e pafutelli come pianotelle appena sfornate ma dire la verità assai infreddoliti anche loro lo seguivano passo passo in fila indiana io sono sant'antonio il porcaro rispose l'uomo sfoderando un bel sorriso e sto cercando un posto dove allevare i miei cinghialetti questi che vedete anche gli altri 777 che mi aspettano al di là del mare da dove sono venuto beh brrr intervente un giovane dalla cui barba gelata pendevano due o tre ghiaccioli canditi e affusolati questo davvero non è il posto adatto per allevare cinghialetti non certo cinghialetti delicati e pafutelli come i tuoi voglio dire non ti sei accorto e ciù e ciù che qui c'è qualcosa che non va e così dicendo l'uomo spiegò a sat antonio che dio quando aveva creato la sardegna si era dimenticato di insegnare agli uomini come accendere il fuoco e in quanto a zolfanelli acciarini pietre focaie e altri ammennicoli del genere manco a parlarne perché sull'isola non ce n'era traccia neanche a cercarli con lumicino e d'altronde non ce n'erano neanche lumicini così che le loro case erano fredde e tristi come le campagne imbancate di neve che le circondavano sant'antonio però non si perse d'animo quelle ampie vallate che si aprivano davanti ai suoi occhi e quelle colline ricche di foreste di querce stracolme di ghiande erano proprio quello che ci voleva per i suoi cinghialetti così si sedete su un grosso masso che sporgeva da terra si frizionò il naso che nel frattempo è diventato rosso come un peperone starnutì due o tre volte e poi tirò fuori dalla bisaccia una grande mappa dove erano disegnate tutte le cose che dio aveva creato sopra la terra e sotto la terra ecco qua disse dopo aver studiato a lungo la mappa ed essersi guardato intorno so bene io dove trovare il vuoco che vi serve e così dicendo si sollevò e ordinò al giovane che gli portassi un bel bastone di ferula dopodiché impugnò il bastone raccomandò che nessuno lo seguisse salvo i sette cinghialetti e subito si incamminò verso uno sperone di roccia che si ergeva ridosso di una collina non troppo distante di là giunto a due passi dallo sperone sollevò il bastone e bussò tre volte sulla roccia chi è che bussa chiese da dietro la roccia una voce rocca e sgradevole non c'è nessuno qui si sovrappose un'altra voce questa volta stridula e malevola andate via perciò intimò un vocione grosso e spaventevole sant'antonio però che già si aspettava quella reazione subito bussò altre tre volte e poi chiese ma nell'inferno questo si rispose la prima voce può darsi rispose la seconda voce ma tu chi sei e cosa vuoi chiese la terza voce io sono l'ispettore dell'inferno fece allora sant'antonio e sono in visita ufficiale con tanto di capello crisma sigillo emblema standardo e cerchialacca per un po dietro la roccia ci fosse un silenzio assoluto poi di nuovo si sentirono le tre voci non ci interessano le visite ufficiali disse la prima no davvero grazie disse la seconda e poi cosa vuol dire cerchialacca concluse la terza come non conoscete la cerchialacca esclamò sant'antonio fingendosi stupito ma come dire che non conoscete la passivoglia il controsento e la mirabanda certo che i diavoli sono dei gran curiosoni e infatti piano piano la roccia si aprì quel tanto che bastava affinché i tre guardiani dell'inferno potessero vedere coi loro occhi quelle stranissime cose di cui non avevano mai sentito parlare prima ben inteso non è che si fidassero molto infatti socchiusero la porta appena un pochino ma quel pochino bastò a sant'antonio per infilarci dentro il bastone e aprire un varco abbastanza ampio se no da lasciar passare un uomo almeno da permettere ai sette cinghialetti pasciutelli e pafutelli di introdursi uno dopo l'altro nell'anticamera dell'inferno correndo a più non posso di qua e di là e di sopra e di sotto sporcando per bene i pavimenti grugnendo e grufolando e avosciando tutto quello che incontravano sul loro cammino in un battibaleno la porta nella roccia si spalancò completamente e tre diavoli inferociti ne dissero di tutti i colori a sant'antonio ho appena passato la cera guarda che disastro le mie tende e i miei cuscini richiama subito i tuoi cinghialetti presto prima che il gandiavolo in persona si accorga di questo putiferio fu così che sant'antonio riuscì a intrufolarsi nell'anticamera dell'inferno e dopo aver chiamato a raccolta i suoi cinghialetti facendo finta di essere stanco si sedette vicino al falò che ardeva proprio al centro della caverna che bel calduccio che c'è qui però esclamò allungando la punta del suo bastone nel fuoco in modo che le fiamme cominciassero a bruciare di nascosto il midollo sfugnoso della ferula senza che all'esterno si vedesse niente i tre diavoli però che a dir poco avevano un diavolo per capello il che come tutti stanno può essere molto molto pericoloso non volevano affatto saperne di altre chiacchiere ci ha imbrogliato disse il primo facendo fumo e fiamme dal naso e dalle orecchie già aggiunse il secondo mordendosi la lingua per non dire porco diavolo tu non si è fatto un ispettore dell'inferno e tutto quello che volevi era riscaldarti al nostro fuoco il terzo diavolo invece che era il più grosso e cattivo dei tre di nuovo riprese a urlare col suo vocione rocco e spaventevole perciò vai via di qui e torna da dove sei venuto tu col tuo capello il tuo crisma il tuo sigillo il tuo emblema il tuo standardo e la tua maledetta cerchialacca fu così che sant'antonio raccolse il suo bastone di ferula che dentro ancora bruciava e uscì con i sette cinghialetti dall'anticamera dell'inferno e appena si trovò fuori finalmente sano e salvo rotteò in aria il bastone con la punta infuocata facendo volare verso i quattro orizzonti un'infinità di lapilli e scintille poi disse a gran voce fuoco fuochino in ogni acciarino bracere forno tutto intorno pietra focaia cammino e caldaia fuoco fuoco per ogni loco per tutto il mondo fuoco giocondo da quel momento anche i sardi conobero il fuoco e smissero di tremare per il gran freddo e sant'antonio fatti arrivare sull'isola gli altri suoi 777 cinghaletti anche loro pasciutelli e fattu pafutelli come le pagnotelle appena sfornate rimase a vivere per sempre in sardegna